Il burro d'arachidi 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 Abbiamo capito Cioè ascolta Se mai dovesse succedere Che lo vede Alla fine Cioè Sei denunciabile a vita Il cazzo è la Ferragna Ha fatto i suoi soldi Sulla povera gente Non è una politica Wait in the taxi Non è una cantante Qua c'è il mare raga Dietro lo vedete È una cosa stavola È una blogger È una busta Raga siamo dentro Il burro d'arachidi Il burro d'arachidi Sono bellissime Le storie della Sony Sony Pictures Entertainment Sono piccola Scusa E io sono piccola Scusa Ok Adesso vabbiamo Cari Saluta Alla dove siamo cari? Scusa 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 Stiamo cercando il posto Dove in teoria dovrebbero proiettare Runes Scusa Adesso Siamo già su un set Stiamo già violando ogni legge violabile Adesso Troviamo Spiderman Da qualche parte Scusa Sì Infatti Capisci E io non ero lì Jimmy Stewart Jimmy Stewart Eccola qua Scusa Fa tutto un altro effetto sul grande schermo Come dire L'hai fatta tu L'hai fatta tu Tiragli un pugno Eccole Large And with Sofia Trovato as Sophie Troppo stile Troppo stile Bello Bello Eccola 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 stata Che occhi fiosi Raga Volevo solo dirvi Che oggi è un giorno importante Perché ho adottato un unicorno C'era scritto Per favore adottami E io l'ho adottato Devo trovargli un nome È la nostra mascotte Giornata è ufficialmente finita Nel senso che non ho più intenzione di vloggare Quindi ora andiamo a mangiare E' pazza No ma è vero Ok Le droghe leggere E' anche pesanti E niente Stasera ci mangiamo gli spaghetti di soia E poi penso che andremo di Netflix un cattiverio un filmone c'è proprio una faccia distrutta ah ma stavi vloggando, avevi detto che non vloggavi è la conclusione del vlog ah sì certo, guardate questo switch dimmi topina ha detto Giulia ciao a tutti ciao raga good night ciao